Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi abbiamo un'altra partita del torneo Under 21 svoltosi a Caserta questa volta contro Andrea Maresca, è stata combattuta come partita e anche come le altre le avete già viste, spero vi siano piaciute vi ricordo di lasciare mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e prepararvi per i prossimi video, dato che a breve, proprio adesso, mi stavo preparando per un altro torneo Open, aperto anche ad altre regioni, per quanto riguarda la quarta categoria vi lascio alla partita e buona visione Grazie 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 e l'ultimo Poi! 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 Il Rodelo Che è una Mura! Bravo! Olê! Olê! Bravo! Olê! Noi! Voi! Noi! Voi! Allee! 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 Allee!